Intanto ti chiedo le prime sensazioni, gruppo nuovo, mi pare piuttosto un bel entusiasmo, poi ti chiedo anche com'è andata la trattativa perché per giorni e giorni abbiamo scritto che il Palermo ti cercava, dacci qualche dettaglio in più. No, le sensazioni sono state più che ottime, il gruppo subito mi hanno fatto entrare e ti dico che mi sto trovando benissimo, squadra ottima impressione, nello spedetto ci divertiamo e sono molto contento di farne parte. Per quanto riguarda le trattative, è stata una trattativa semplice pure perché subito ho detto sì al Palermo, quindi non ci ho messo tempo a pensare e di fare la scelta. Da questo punto di vista hai voluto aspettare prima un feedback dal Frossinone, cioè sei che ti portavano in A, insomma rimanevi lì o hai detto sì a prescindere? No, no, dico la verità, avevo la proposta del Palermo, abbiamo parlato insieme al procuratore con il Frossinone, che c'era questa possibilità e io mi andava di cambiare e di venire a Palermo. Dal punto di vista tattico il fatto che Corrini si stia orientando sul 4-3-3 anche per venire incontro alle tue esigenze, cioè nel senso che ha preso un esterno e ne ha un altro che è di Mariano, quindi da questo punto di vista. Però ti abbiamo visto anche messo esterno alto nel 3-5-2. Ecco, tu se dovessi in qualche modo descriverti da questo punto di vista? Beh, io ho sempre fatto l'esterno a destra nel 4-3, però sono completamente a disposizione del mister e della squadra per dare una mano e per fare bene, quindi dove il mister mi crederà di giocare la giocherò. Un'ultima cosa, ti chiedo l'accoglienza che ti ha riservato Luscioni, che insomma immagino vi sarete sentiti nei giorni precedenti e poi cosa ti ha detto tuo fratello se ti ha detto qualcosa a proposito di questa tua nuova avventura? Beh, con Fabio ci siamo sentiti quasi sempre, da quando abbiamo finito il campionato a un giorno prima che arrivavo qui. Quindi con Fabio l'anno scorso abbiamo trascorso un anno fantastico, quindi speriamo di ripeterlo e di divertirci soprattutto e cercare di fare bene. Mi fratello sta bene là, adesso sta dormendo, quindi lo sento quasi tutte le sere per Whatsapp, videochiamate eccetera, è molto contento e ti dico la verità, pure lui mi ha detto che è stata la scelta migliore, quindi sono contento. Grazie. Grazie a te. Alessandro Amato a TRM, hai giocato in carriera una trentina di partite in Serie A, cosa ti è mancato per fare di più, se è mancato qualcosa, cosa pensi di dover colmare per arrivare a un livello che vedendoti giocare, non in allenamento in questi giorni ma nelle passate stagioni in campionato, sembra che possa essere da te raggiungibile? No, raggiungibile no, ti dico la verità, non lo so. Non ho detto raggiungibile, non irraggiungibile, sembra proprio la tua portata, però quel numero trenta è piccolo rispetto alle tue potenzialità, non hai sentito le prime due lettere che sono molto importanti. No, sicuramente quando l'ho fatto non ero così maturo come adesso, dico la verità, e magari arrivarci adesso con la maturità giusta che ho adesso, secondo me le presenze aumenterebbero tranquillamente. Sono Simona Licandro della TGR Sicilia, tu sei un esperto di promozioni in Serie A, questo può portare, come diciamo poco fa con Corini, esperienza ma anche quel tocco in più perché servono tante cose per essere promossi e non ci nascondiamo, questo è l'obiettivo del Palermo quest'anno. Ti dico la verità, sto pensando molto a quest'anno, non a quello che ho fatto in passato. Ne ho vinti di campionati sicuramente, però vincere è sempre bello, però dobbiamo stare con i piedi per terra, essere tranquilli, dobbiamo essere competitivi nel campionato sicuramente, però andiamo con i piedi di piombo e cerchiamo di fare le cose man mano. Ciao Roberto Parisi, Stadionews. In questi giorni ti abbiamo visto già in palla, sia in allenamento che in partita. Ti volevo chiedere come sei dal punto di vista atletico, ma soprattutto motivazionale? E poi ti faccio un'altra domanda. Sono arrivato abbastanza bene pure perché mi sono allenato tanto quest'estate, perché avevo voglia di ripartire subito bene. Poi qual è l'altra? L'altra ti volevo chiedere di come ti stai trovando con Brunori, dato che abbiamo visto che vi cercate tantissimo. Matteo è un giocatore straordinario. Già l'anno scorso, quando abbiamo giocato contro, gli ho fatti complimenti a fine partita per come si muoveva e per come faceva giocare la squadra. Sono contento di poter giocare con lui e di fornirgli più assi se possibile. Sì, buongiorno Roberto, benvenuto. Ti volevo chiedere, tu hai già vinto in passato in B con il Benevento, con il Forsinone, che sono due piazze importanti. Adesso sei finito in una piazza ancora più importante, che però ovviamente comporta anche molta più pressione. Questa cosa ti gasa, ti motiva? Dicci un po'. Ti dico la verità, assolutamente no. Anzi, mi gasa perché giocare a Barbera con 30, 40, 50 mila persone per noi dovrà essere solo una spinta e una forza impegnante. di più per portare a casa il risultato e l'obiettivo che ci metteremo in testa appena inizia il campionato. Ciao, Chiara Ferrara, Sportisili, benvenuto. Grazie. Innanzitutto volevo chiederti, tu in passato hai giocato con Tutino. Se l'hai sentito prima di venire qua, se l'hai seguito durante la sua esperienza a Palermo e se ti sarebbe piaciuto incontrarlo. Sicuramente sì, perché con Gennaro ho fatto anche il settore giovane l'insieme con il Napoli, quindi un ragazzo che conosco benissimo sia in campo che fuori, un ragazzo d'oro e mi sarebbe piaciuto tranquillo, molto dico la verità. Per quanto riguarda, sì, l'ho sentito appena ho firmato per alcune cose e lui mi ha detto che ho fatto la scelta migliore perché si è trovato benissima sia lui che la famiglia. Quindi su questo piano qua, sì, io che la mia moglie e le bimbe siamo tranquillissime e non vediamo l'ora di arrivare a Palermo. Mi hai detto Lagganzo, tu sei cresciuto in una piazza colorosa come Napoli che quest'anno è tornata allo scudetto dopo tanto tempo. Secondo te, considerando le prospettive e l'ottica del Citigroup, quanto tempo ci vorrà, quanti anni ci vorranno affinché Palermo possa sognare lo scudetto e possa essere competitiva per lo scudetto? Io ti dico la verità, in Palermo l'ho seguito anche anni e anni indietro quando c'era Cavani, Di Bala. Mi è sempre piaciuto la piazza e la città del Palermo per come si mostravano i giocatori, eccetera. Quindi io spero, prima possibile, però come ho detto prima, andiamo con i piedi di piombo e vediamo cosa facciamo partita per partita. Eccomi, Nicolò Cilluffo Mediagol. Ciao, benvenuto intanto. Grazie. Volevo chiederti se, insomma, nello sviluppo della trattativa hai un po' risentito anche della rivalità che c'è tra Frosinone e Palermo a livello di tipo serie intanto. No, ti dico la verità, assolutamente no. Io mi sono trovato benissimo a Frosinone dal primo giorno che sono arrivato e sicuramente mi sentirò benissimo a Palermo il primo giorno che metto il piede la città. Per adesso ti dico che sono contento per come mi hanno accolto qui il ritiro le persone che sono arrivate, le persone che mi hanno scritto sui social, eccetera. E spero solo di ricambiare la fiducia nei migliori dei modi. Hai giocato al Barbera lo scorso anno. Che sensazioni ti ha dato vivere quel tipo di atmosfera e cosa ti aspetti di ritrovare la prima volta che, insomma, rimetterai i piedi sul terreno di gioco del Barbera? Io spero, te la faccio breve, spero di farli esultare come ha fatto Valerio quando abbiamo giocato contro l'anno scorso. Per chiudere, volevo chiederti se nel corso della tua carriera il paragone, anche a livello, insomma, mediatico con tuo fratello Lorenzo costituisce un motivo di pressione oppure, insomma, uno stimolo per fare sempre meglio? Grazie. Non è uno stimolo, non è una pressione, ma solo un motivo di orgoglio di avere un fatello del genere, dico la verità. Mai messo in... mai stato, anzi, sotto pressione per essere il fatello di Lorenzo ma per me, come ho detto prima, è un motivo di orgoglio per dare il massimo pure per lui, per far capire che sono Roberto e Lorenzo. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Sì, mi chiedevo, come spesso succede fantasisti e trequartisti, il tuo rapporto con l'assist e con il gol. Che vuoi aver detto, spero di dare tanti palloni a Brunori? Perché preferisco più... ti sembra strano? No, no. Mi piace più far segnare i miei compagni, esultare con loro e per loro che per me stesso. E questo perché c'è un motivo specifico? Perché io amo stare con i miei compagni di squadra, mi piace stare in uno spogliatoio, eccetera, quindi vederli contenti e felici sono ancora di più contento io.